Da marzo ad agosto abbiamo una perdita nella provincia di Padova di 551 milioni di consumi. Questi i dati stillati dall'osservatorio di Confesercenti per il semestre marzo-agosto 2020. Una diminuzione di spesa del 22% rispetto all'anno precedente, mediamente un calo mensile di 485 euro per famiglia. Naturalmente è il no food che ha le perdite più consistenti ed evidenti. Andiamo dai servizi alla persona al consumo, parliamo di abbigliamento anziché calzature, anziché beni di consumo e di servizi, però la situazione è abbastanza pesante. Se poi andiamo a focalizzare il meno 4,7% che sono gli utili, quello che i cittadini hanno percepito in meno durante questo periodo e lo confrontiamo con il meno 22% dei consumi registrato, mi sembra chiaro che è un indice di grande preoccupazione. Aumentano i depositi bancari, fra l'altro, ed è un altro indice di incertezza. Numeri che certificano una situazione grave per molti comparti. L'intervento del governo è necessario, anche se, come sottolinea Rossi, il lavoro non si crea per decreto. C'è attesa ora per capire come verranno investiti i soldi che l'Europa ha messo a disposizione con il Recovery Fund. Il nostro Nord-Est, con le sue 550.000 imprese, il nostro Veneto, ha segnato dei record a livello di pille europeo, bene, è il frutto della piccola e media impresa. Bene, è lì che bisogna fare interventi. Fino ad oggi, purtroppo, gli interventi fatti dal governo in questa direzione non sono stati, come dire, mirati ed efficaci. Si è lavorato più in senso molto largo e ora bisogna affondare nei problemi e trovare le giuste soluzioni economiche.